Intanto è viva perché è una legge che abbiamo invocato, a cui tutto il nostro mondo, il terzo settore, ha collaborato e quindi viva che ce l'abbiamo fatta. Ho scritto anche che è la legge migliore, magari no, ma è la miglior legge possibile oggi, dato il contesto anche parlamentare. Ci sono stati dibattiti anche abbastanza lunari durante le audizioni, in aula, quindi credo che più di così non si potesse fare e questa legge contiene tante positività. Dà un fondamento civilistico a un mondo che è cresciuto, che poi si è sviluppato per leggi di settore, invece adesso il codice civile, libro primo, titolo secondo, è riscritto ed è definito cos'è il terzo settore in Italia.